Allora ragazzi salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video nel quale oggi siamo sulla account di Viorju il quale ci permette di rollare ben 10176 gemme alla ricerca di Aries e Valentina quindi vediamo se riusciamo a trovarli subito così poi possiamo cambiare qualche talento un bel roll da 3 per iniziare paladino non è proprio quello che cercavamo però però forse con questo roll da 3 potremo no ok non potremo uh abbiamo una carta eroe leggendario ottimo allora uh quante carte eroe leggendario che hai wow vediamo che ci esce da qui uh Aries no campione prendiamo Aries Aries e dai forza Aries cavolo torniamo a rollare prendiamo Aries Aries no ok Valentina non proprio Aries escono sempre gli stessi quindi posso continuare a rollare Aries ma che brutta che brutta formazione proprio forza riproviamo Aries forza riproviamo Aries no vabbè ultima da 3 poi da 1 Valentina no da 1 no 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 oh si no continuiamo con qualche roll da 1 vediamo cosa esce questo è un buon roll no 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 noń aria va vari intensa valeri Eravamo arrivati a Aristino. Arrostino. Arrosticino. Boom. Boom. Ultimo boom. No, voglio fare un bel roll da 3. Voglio prendere un altro leggendario, magari. Ne abbiamo presi giusto due, con 10.000 gemme. Un po' poco. Egli proviamo da 3. Non è possibile. Ragazzi, purtroppo niente Ares. Abbiamo preso una di Zucca, un paledino, un faraone. E credo basta. Il campione con la carta, ma... Mi pare... Sì, mi pare fossero soltanto quelli. Quindi abbiamo avuto una rollata abbastanza sfortunata, ma comunque divertente, sull'account oggi di Giorgio. Per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like, un commento. E soprattutto, se ancora non l'avete fatto, a riscrivervi al canale. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti.